RICORDO Ricordo mia madre Si chiamava Ella Mi diede questo Avevo anche un fratello Eravamo una famiglia Non avevo idea del pericolo che incombeva I demoni ci trovarono Quando entrarono Lo vedi Sacrificò la propria vita perché ci salvassimo Non dimenticherò mai cosa le fece Nostro padre Sparda portò via me e mio fratello Ci separò Ci nascose in un luogo sicuro fra gli umani Cancellò i nostri ricordi per proteggerci Da lì in poi il buio Fino ad ora Cancellò 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 Devo uscire di qui Ancora! Sei mio fratello? Sì, fratello gemello. E ti ho cercato per tanto, tanto tempo. Ce li ha dati nostra madre. Sapeva che questo momento sarebbe arrivato, che ci saremmo ritrovati. E nostro padre, Sparda? Bandito per sempre. Un destino peggiore della morte. Non tornerà più. Voglio sapere di più. Da dove veniamo, cosa ci è successo. E soprattutto, voglio sapere chi è il responsabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.